Gianni Colacione, 14 dicembre 2014, siamo in compagnia di Riccardo Maggi, consigliere radicale eletto nella lista civica per Marino e con lui parliamo degli eventi che nelle settimane scorse si sono avuti e anche con un clamore mediatico più che giustificato all'interno del Comune di Roma, potremo sintetizzare nell'inchiesta a cui hanno dato vita che si chiama Terra di Mezzo. Ecco Riccardo Maggi, possiamo dire che è stato anche un po' un precursore della scoperta tra virgolette dei fatti che sono oggetto di questa inchiesta ne parliamo con lui per farci fare una piccola sintesi del fatto in sé e i primi, visto che poi i primi perché il procuratore ha detto che sono degli eventi in evoluzione i primi commenti e i primi posizionamenti delle forze politiche che sono state travolte da questa inchiesta. Sì, grazie. Più che precursori dell'inchiesta, perché poi l'inchiesta giudiziaria molto complessa probabilmente si rivelerà una delle più grosse inchieste della storia della Repubblica da quello che vediamo in questi giorni e che possiamo intuire in termini di sviluppi. Noi avevamo segnalato in questo anno e mezzo di attività, anche con una postazione istituzionale all'interno del Consiglio Comunale di Roma, delle grosse anomalie. Insomma, per accorgersene bastava leggere i bilanci, bastava guardare le modalità di certi affidamenti di servizio per molti milioni di euro. Poi, è chiaro, la Procura ha gli strumenti per dire chi e come ha compiuto determinati reati, però politicamente noi avevamo indicato dei punti critici che tra l'altro sono molto collegati e probanti rispetto alla nostra analisi di quello che accade a Roma. Noi abbiamo una capitale che per un verso vive una situazione da molti anni tragica di dissesto finanziario di fatto, dall'altro abbiamo una qualità dei servizi inefficiente, non a livello di una capitale europea, e un livello di tassazione di imposte fiscali tra i più alti d'Italia. Noi eravamo partiti da qui per fare un'analisi di tutto il funzionamento della macchina amministrativa della capitale e in questo anno, anche perché una serie di nostre proposte non trovavano un'interlocuzione politica, ci siamo visti anche costretti a fare numerose denunce a tutti i livelli, alla Procura della Repubblica, della Corte dei Conti, all'autorità nazionale anticorruzione, alla Commissione europea, proprio per questioni che partivano dalla gestione dei rifiuti, dall'affidamento dei servizi, alle grandi opere come Metro C, su cui tra l'altro ricordo che a partire da un nostro esposto c'è stata una contestazione di un danno erariale di 360 milioni di euro per la prima tratta e sempre a partire da quello esposto il presidente dell'ANAC Cantone ha fatto un rapporto che ha inviato al Procuratore della Repubblica di Roma, Pignatone. Però diciamo che la cosa interessante per noi che sosteniamo e che anche questa inchiesta ci conferma è come si connette questa che è un'associazione a delinquere. Da questo punto di vista l'analisi radicale che individuava in un sistema di partiti e anche nel momento in cui il sistema dei partiti è in disfacimento, in una rete di correnti e di candidati, un'associazione a delinquere, questa inchiesta mette in luce proprio alcuni aspetti in cui si sovrappone la parte peggiore e più criminale in senso tecnico della politica con l'alta amministrazione perché è evidente che c'è un ruolo importante di tutta l'alta amministrazione e la burocrazia comunale con ambienti criminali veri e propri ma come questo si connette con la produzione del consenso politico, del consenso elettorale e quindi mai come in questo momento forse sarebbe il caso di fare un dibattito sulla selezione della classe dirigente in questo paese a livello locale ma anche a livello nazionale e quindi tutto il tema del sistema elettorale, è evidente che in un contesto di questo tipo è centrale il problema delle preferenze, cioè noi abbiamo affrontato nella storia di questo paese un'altra fase simile per certi versi, la grande stagione, grande poi dipende dai giudizi politici che se ne danno, comunque storicamente è stata sicuramente una fase importante di Mani Pulite della Tangentopoli inizio anni 90, da lì ne nacque un dibattito nel paese e un'iniziativa referendaria a cui come radicali partecipammo che portò gli italiani a dire basta con le preferenze ora sembra che tutto il dibattito anche a livello parlamentare sia invece sulla scelta tra le preferenze che da alcuni, penso al Movimento 5 Stelle vengono individuate come la panacea di tutti i mali e le liste bloccate e sembra che necessariamente ci si debba muovere tra questa alternativa che a nostro avviso è una falsa alternativa perché non coglie il punto del problema il sistema delle preferenze è un sistema che consente di fatto a una parte minima degli elettori e esprime la preferenza di decidere chi effettivamente siano gli eletti noi siamo a favore di un sistema basato sul collegio uninominale in cui c'è una riconoscibilità del candidato una biografia politica e anche personale del candidato che si candida contro altri candidati in quel collegio e abbiamo quindi un sistema che consente di avere una persona che vince che prevale sull'avversario o su due o tre avversari quelli che si presentano e un elettorato di 80, 90, 100 mila elettori che sono in quel collegio che diventano dei controllori dell'operato di quell'eletto e questo è l'aspetto virtuoso a nostro avviso di un sistema anglosassone che chiaramente non è un sistema perfetto non esistono sistemi perfetti come la democrazia è di per sé imperfetta ma è la cosa a nostro avviso migliore devo dire purtroppo ci sono stati anche nel partito democratico degli esponenti penso a Giacchetti, penso a Menichini, penso ad altri che hanno subito colto anch'essi questo nodo qui prendendo spunto da questi fatti per dare una risposta che sia di visione e di riforma del sistema perché le risposte che dà anche il governo, anche il premier Renzi sono da una parte quelle di uno scandalo morale quindi di un'indignazione troppo poco insomma a nostro avviso per chi ricopre delle cariche di governo e dall'altra quello dell'inasprimento delle pene nel momento in cui noi sappiamo o dei processi rapidi nel momento in cui noi sappiamo che l'Italia è il paese che ha i tempi dei processi più lunghi in Europa e che ha un arretrato di 5 milioni di processi quindi come dire ci aspetteremmo qualcosa di più questi diciamo sono un po' la lettura che noi ci sentiamo di dare è evidente che c'è una grossa crisi un grosso terremoto politico in questo momento a livello locale, della capitale ma inevitabilmente anche a livello poi più nazionale e più generale in tutti i sensi e questi sono i momenti in cui proprio perché si rompono degli equilibri di potere sono i momenti in cui si deve necessariamente cercare lo spazio per incardinare delle riforme e forse si creano anche le possibilità più che in altri momenti di calma apparente o comunque di equilibri bloccati e di sistemi di potere che tengono tutto sotto controllo questo è un momento molto importante Riccardo tu hai parlato dell'importanza della selezione della classe politica lo governa poi le istituzioni che rappresenta i cittadini ma io ti volevo chiedere una cosa una certa differenza con le periodi di mani pulite si può notare perché secondo me all'epoca avevamo i partiti che in qualche modo direttamente aggredivano le istituzioni poi c'era il sistema del finanziamento illecito e così via però dagli inizi appunto da quello che per adesso si sa di questa inchiesta o indagini ancora che stanno andando avanti pare che ci sia in realtà un ceto sotto la politica ai vertici dello zoccolo burocratico romano che si è stratificato questo ceto da anni che ha resistito a qualsiasi tipo di cambio politico e quindi di ribaltamento ai vertici politici che fa il bello e il cattivo tempo e che in qualche modo sembra avere in mano anche i vertici della politica rispetto a questo che cosa si può fare? perché questi poi sembrano inamovibili questo ceto sembrano inamovibile anche perché comunque spesso sono dipendenti sono dirigenti quello che noi abbiamo appreso dalle notizie diciamo dall'ordinanza della procura ma anche un po' dall'osservazione diretta delle dinamiche è che ci sarebbe una associazione a delinquere che è da una parte trasversale rispetto agli schieramenti politici e dall'altra è anche trasversale nel tempo cioè attraversa più amministrazioni di diverso colore politico nell'arco degli anni è proprio quello che dicevo prima come dire le cose si tengono insieme c'è un rafforzamento di alcuni proprio signori feudali del territorio grazie al sistema delle preferenze che sono collocati nei vari schieramenti politici e poi c'è uno strato che è quello dei dirigenti dei vari dipartimenti che inevitabilmente sono coinvolti chiaramente poi da un punto di vista giudiziario ci saranno posizioni diversissime personali le responsabilità sono individuali però facendo una valutazione politica beh è inconcepibile che ci sia una come dire una prassi ad esempio per tutto quello che riguarda gli affidamenti di servizi fatti in maniera illegittima è inevitabile che non ci sia almeno una corresponsabilità o una connivenza da parte di chi quei documenti come dirigente dell'amministrazione li firma li sottoscrive li avalla e non mette in atto invece dei provvedimenti per contrastare quel tipo di pratiche quindi questa cosa è un dato di fatto è evidente poi sì effettivamente la differenza c'è perché qui in molti casi anche leggendo le accuse non parliamo di finanziamento illecito ai partiti ma parliamo di finanziamento occulto più o meno illecito a singoli candidati e quindi questo ci racconta anche di un sistema dei partiti che probabilmente soprattutto a livello locale è molto come dire spappolato ormai per certi versi e però ci sono dei candidati forti che riescono a totalizzare migliaia e migliaia di preferenze pur essendo poco conosciuti alle cronache politiche per avere fatto delle proposte o per avere lanciato delle iniziative politiche quindi sì sono d'accordo ci sono sicuramente delle differenze per quello che conosciamo ora del fenomeno rispetto alla stagione di Mani Pulite però poi alla fine molte criticità rimangono le stesse insomma fatte le debite differenze nel frattempo in qualche modo veramente in qualche modo l'amministrazione della capitale deve andare avanti in questo periodo che è natalizio Roma generalmente nella zona centrale di Piazza Noona era caratterizzata dalla presenza di un mercatino tradizionale della Befana insomma c'erano bancarelle varie ecco e quest'anno non sarà così a quanto pare ci sono state alcune polemiche c'era mi sembra la proposta di un riammodernamento un pochino anche dello spazio espositivo dello spazio commerciale però poi alla fine le licenze commerciali non sono state ritirate ecco in blocco è stata una cosa abbastanza unanime questa presa di posizione ecco io ho accorto qualche piccola voce di corridoio e così via che insomma c'entri un pochino anche c'entri anche una famiglia una famiglia che sta nel consiglio comunale che è quella dei Tredicine che ha una grossa fetta del commercio ambulante in questa diciamo prese di posizione sicuramente contraria alla diciamo spinta riformistica che ha dato il sindaco su questo su questo aspetto tu che cosa sai dirci ma intanto diciamo i fatti come sono andati c'è stata una decisione dell'aggiunta dell'assessorato al commercio che ha ritenuto a mio avviso a ragione e anche rispondendo a una richiesta che veniva dai cittadini anche dai comitati di cittadini del centro storico ma non solo di fissare di stabilire delle regole attraverso poi l'emissione di un bando per la presenza appunto del commercio ambulante quindi delle varie banchi di commercio ambulante in piazza Navona nel periodo natalizio prenatalizio riducendo da una parte il numero delle appunto degli esercizi commerciali che era effettivamente diventato un numero esagerato per quello spazio e dall'altra anche però facendo dando un'indicazione sulla qualità sulla tipologia di merce e di esercizio commerciale e quindi che dovrebbe essere ricondotta al Natale e quindi a determinati prodotti a seguito c'è stato il risultato del bando la chiusura del bando e quindi con la riduzione quasi il dimezzamento del numero di esercizi eppure anche quelli che hanno di fatto vinto e quindi si sono visti assegnati la postazione e la presenza non hanno ritirato il titolo sostenendo da quello che ho capito io che o tutti diciamo quelli che erano precedentemente presenti avrebbero dovuto di nuovo poter lavorare oppure nessuno avrebbe accettato questa cosa che significa contestare proprio come dire alla base la prerogativa di governo dell'amministrazione in un ambito che è proprio di competenza dell'amministrazione locale dell'amministrazione comunale cioè quello della disciplina dell'esercizio commerciale ambulante tra l'altro c'è stata anche una mozione con la quale presentata in consiglio con la quale alcuni consiglieri alcuni colleghi devo dire in maniera trasversale hanno proposto di bloccare la decisione della giunta e quindi di annullare il bando e di ritornare alla situazione degli anni precedenti su questo c'è stato un voto e la mozione è stata respinta per un voto solo 11 contro 10 poi ci sono stati diversi astenuti quindi 11 voti hanno votato contro la mozione del consiglio che andava contro la decisione della giunta quindi è stata respinta con una spaccatura negli schieramenti io ho ritenuto di votare con convinzione contro questa mozione difendendo quindi l'operato della giunta che a mio avviso è un esercizio di una prerogativa di governo assolutamente legittima e di cui in particolare condivido pure l'indirizzo politico in questo caso cioè io condivido il fatto che lì andavano ridotti gli esercizi e condivido il fatto che andava ricondotto a quel tipo di mercato a una appunto tipologia di merci attinenti al Natale perché si tratta di un mercato stagionale che si fissa lì nel mese precedente al Natale nelle due o tre settimane precedenti al Natale questi questi commercianti non so se riuniti o meno in un'associazione di categoria e non so bene quale sia il ruolo poi della famiglia Tredicine che sicuramente sappiamo tutti ha una percentuale significativa e esprime la presidenza di questa associazione ritengono di fare questa sorta di sciopero a mio avviso sarebbe molto grave se l'amministrazione in qualche modo desse dei segnali di cedimento perché significherebbe davvero come dire non riuscire a tenere il punto neanche di una posizione che è largamente apprezzata dai cittadini probabilmente questi signori credono che facendo venire meno del tutto la loro presenza riescono a ribaltare anche in termini di impopolarità questa decisione dell'aggiunta però le scelte che sono state fatte a mio avviso in questo caso sono corrette e va tenuto il punto Perfetto Riccardo io ti ringrazio per questa finestra che ci hai aperto informativa e anche corredata di commento sugli ultimi fatti che sono avvenuti in Campidoglio e poi su questo aspetto particolare del mercato di Piazza Navona volevo chiudere con una piccola previsione volevo chiederti una previsione un pochino dato l'andazzo le prime reazioni delle varie forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale come pensi che andrà a finire perché poi ci sta anche il discorso che la possibilità ancora non del tutto scongiurata di un commissariamento del Comune qualcuno parla di un ipotetico Marino Bis insomma tu come pensi secondo te che previsioni potresti fare? Intanto ringrazio io voi per questa possibilità ringrazio Liberi TV anche per l'attività che svolge con costanza di pubblicazione e di di un servizio che sono le riprese appunto delle sedute del Consiglio del Settimo Municipio che è una cosa che non vi avevo mai detto ma ci tengo a dirvelo perché credo sia utilissimo e anche come dire fate supplenza a una mancanza istituzionale in quel caso lì come dicevo c'è un terremoto politico in atto per certi versi è normale che chi ha perso le elezioni le varie forze politiche che hanno perso le elezioni chiedano di andare di nuovo ad elezioni questo è fisiologico e anche comprensibile da parte loro sicuramente per certi versi il sindaco Marino esce rafforzato da queste vicende perché se noi ricordiamo appena venti giorni fa un mese fa c'era tutto un altro clima c'era stato quell'episodio del sondaggio che il Partito Democratico o l'ex capogruppo del Partito Democratico avevano commissionato da cui emergeva l'impopolarità del sindaco Marino poi c'era stata tutta la vicenda delle multe delle varie interviste di vari leader che comunque toglievano in qualche modo sostegno e forza all'aggiunta del sindaco Marino la faccenda delle multe i fatti di torsapienza che ora forse andrebbero riletti alla luce di quello che sta emergendo in questa inchiesta in cui proprio il business dell'accoglienza sui migrati e il rom è uno degli affari centrali di questa associazione a delinquere da quello che apprendiamo io rispetto all'ipotesi di commissariamento dico semplicemente che nella storia del nostro paese i commissariamenti non hanno mai rappresentato una garanzia né di riforma né di maggiore democrazia anzi anche solo restando a quest'inchiesta tutto quello che emerge sui fatti relativi al business diciamo dei campi nomadi S.P.A. così l'abbiamo chiamato così si chiama il rapporto dell'associazione 21 luglio che abbiamo presentato sono avvenuti quei fatti gravi molti sotto un regime commissariale cioè quando c'era l'emergenza nomadi quando sotto il governo Berlusconi c'era un ministro che ha ritenuto di dichiarare un'emergenza e distanziare dei soldi per risolvere questa questione e all'epoca il commissario per l'emergenza nomadi a Roma era l'attuale prefetto Pecoraro credo che invece adesso si apra una grossa possibilità cioè che il sindaco Marino dovrebbe cogliere però deve farlo immediatamente e non rassegnandosi al fatto di dire io sono onesto perché questa è una cosa che non basta ai cittadini capiamo che in un contesto in cui viene fuori una serie di personaggi politici di eletti di assessori di altre comunque cariche dell'amministrazione sarebbero coinvolti in fatti criminosi molto gravi però per noi non è sufficiente cioè va riempito di governo e di politica questa fase proprio perché si sono rotti degli equilibri preesistenti io spero che il sindaco sia in grado spero anche che a breve noi possiamo indicare dei punti che diventano a nostro avviso i punti prioritari per dare un senso agli anni che restano di sindacatura cioè non si può fare finta di nulla e continuare dopo un fatto del genere semplicemente dicendo siamo onesti andiamo avanti col programma bisogna accelerare e intensificare l'azione di governo è chiaro che il sindaco può avere dei problemi nella maggioranza perché ad esempio la tenuta del partito democratico in questo momento non è scontata non è scontata la tenuta politica allora noi abbiamo bisogno subito di capire quali sono i punti su cui di qui a pochi mesi il sindaco decide di dare una svolta cioè non si può vivacchiare bisogna cogliere questa occasione di riforma che si è creata e dare veramente il segno della discontinuità anche un po' della rivoluzione che in questo anno e mezzo si è annunciata ma non è stata concretizzata se la colpa era che c'erano all'interno della stessa maggioranza dei cattivi come li ha definiti il sindaco Marino adesso i cattivi non ci sono più l'azione dell'aggiunta dovrebbe prendere il volo in senso buono grazie grazie Riccardo Maggi grazie a tutti